In un mercatino dell'usato più famoso che ci sia mai in Italia. No, è fantastica questa tazzina. Ma guarda, non è che c'è qualche soldino dentro? E' già lasciata. Ma cosa c'è qua all'interno? C'è qualcosa qua all'interno, hai visto? Oh, ecco qua, finalmente ti stavo aspettando. Dai, sali, coraggio. Dai che andiamo, siamo già in ritardo. Ma come dobbiamo andare? Dai, sali. Non ti preoccupare. Ti porto in un posto bellissimo. Hai visto che bella giornata c'è oggi? Dai. Allora, oggi ti voglio portare in un mercatino dell'usato più famoso che ci sia mai in Italia. Sì, fidati di me. Salah, ce la spasseremo. Poi c'è anche da mangiare, da bere, se vuoi mangiarti una piadina. Dai, muoviti. Sì, mi sono portata via la giacca perché se dopo fa freddo stasera almeno siamo là. Certo, dai, sali, muoviti. Dai, dai che andiamo, su. Eccoci qua, tesoro, siamo arrivati. Guarda quanta gente ci sta oggi. No, bellissimo. Oddio, guarda che giornata strepitosa. Hai visto di là? Guarda quanta gente ci sta. Non pensa che qua c'è una pancherella, ho voluto venire qua apposta perché c'è una pancherella dove si stengono delle cose un po' strane. E quindi ho voluto venire qua apposta perché guarda, 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 oddio. Ci stanno le tazzine. Ma hai visto che bella questa, guarda, con la treccia. No, è fantastica questa tazzina. Ma quanto è bella. No, non ho mai visto qua. Guarda questi bicchieri. Guarda che carini. Se lo so che tu... No, non mi dire che ti stai annoiando. Guarda quanto è carino. Ma non è fantastico. No, è bellissimo. Oh, guarda questi. Oddio, guarda questi qua. Belli, 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 belli. Bellissimi questi, bellissimi. No, l'abbiamo, oddio. La solita casinista che va a spaccare tutto meglio che la sua stagna. Ascolta, avviamoci verso in là che andiamo a vedere quella panca là. Dov'è? Sì, sì, avviamoci. No, no. Dai, non mi dire che sei stagione. Sei già stanca. Siamo appena arrivati. Ma come puoi dire che sei già stanca? Guarda che bello qua. È stupenda, no? No, io me le voglio prendere queste tazzine, guarda. Per poco non lo bevo. Sì, no, ma è fantastico, fantastico, fantastico. Va bene, dai, andiamo verso in là, ok? Wow, 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 guarda adesso, guarda quanta roba che c'è sta qua. Oddio. Mamma mia, quanta roba. No, ma ascolta. No, ascolta. No, hai visto questa cornice qua, guarda. Non è carina? Sì. È bellissima. Guarda che bella, con tutta brillantinosa. Bronze, bellissima. Ah, è molto antica. Si vede che è antica, bellissima. È molto, molto curata. Beh, ma, 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 volevo chiederle, ma da dove arriva tutta questa roba? Ah, ho capito, ho capito. Andate voi alla ricerca nelle case vecchie, wow, bellissimo. Beh, poi avete anche qualcuno che vi li porta. No, 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 stupendo. Bello, bello, bello. No, 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 questo avevo notato. Oddio, guarda che bello questo. Cos'è? Cos'è questo? Ah, un portacandile con la cucinella. È stupendo. Guarda quanto è bello. Ti piace anche a te, tesoro? Vedi, almeno, hai visto che hai trovato qualcosa che ti piace? Dai, prenditelo. No. Ma no. Ho detto che mi piace così. Se piace a te, prendi, donno, dai. Non fare, non esiste. No. Se piace a te, te lo prendi. Ok, no. Comunque sì. No, bello, molto bello, molto realistico. Ci metti la candela dentro, eh. Veramente è un bell'oggetto di anticoriato. Oh, my. Allora, lo prendi tu questo? Te lo prendi te? Va bene. Oddio, guarda questa borsa. Oh, mamma. Questa borsa vintage è stupenda. Oddio. Non è che c'è qualche soldino dentro. È già lasciato. C'è una carta. Il numero 29. Pallo, metterò l'8. Ragazzi. Ho trovato il numero 29. Dai. Bella, però. Bella, 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 bella. No, questa me la voglio prendere. Quanto è? No, bella. Guarda com'è vintage. Adesso è cermina. Aspetta, me la metta in parte, che così, così, ok? Me la metta in parte, ok? Bene. Allora. Eh, sì, sì, sì. Bello, 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 bello. Guarda questo. No, questo. Questo cos'è? Questo qua? Da tesoro. Cos'è questo? Ah. No, 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 non l'ho rotta. Non sembrava rotta. Cos'è? Senti che rumore strano fa. Ma è... Cos'è questa? Non l'ho mai vista una cosa del genere. Una lampada di boemia. Ah, ci vanno le batterie dentro, sì. Ah, naturalmente non ci sono, no? Senti, senti che rumore fa. Fantastica. Com'è carina. Molto bella. Scultoria, direi. E poi fa questo rumore. Fantastico. Bello, bello, bella questa. Beh, dai, ci posso pensare, dai. Oddio, no, guarda questo, guarda questo. No, pure questo, c'è. No, vabbè. Pure questo. No, questo lo adoro, c'è. Questo colè. No, che bello questo. No, questo mi piace tantissimo. No, è fantastico. Guarda quanto è carino questo. No, non mi piace proprio giocarci. No, è fantastico questo. Guarda, no, vedi, sono. E a come pesano queste sfere? Pesano un sacco. No, è fantastico. Oh, che forte. Energia cinetica. Sì, tesoro. Sì, sì, serve per addormentarti, che sei stressata. Magari ti prendi uno di questi. No, ma è anche bello grande. Quanta volta è bello. Uh, è fantastico. Mamma mia, è stupendo questo. No, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. No, lo voglio, questo qua, lo voglio. No, dai, già mi devo prendere la borsa. Oh, mamma, questo carino? No, va. No, questo è da collezione, eh. Oddio, ma suona? Sì, suona. Dai, voglio sentirlo. Guarda, che carino, che carino. È proprio un gioiellino. Aspetta, voglio provare. Non suono. Non suono. Non suono. Wow, che bello. Wow. Che bello. È proprio carino. Carino, 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 carino. Oddio, bellissimo. No, vabbè. Allora, no, questa io l'adoro. No, guarda cosa ho visto. No, cos'è questa? Questa è la mia passione. Oddio, ma è vecchissima. Una vecchia lampada d'olio. Ma funziona? Funzionerà ancora? Wow. Ah, gliel'hanno appena portata questa. Ah, sì? Sì, dovrebbe funzionare ancora. Lui deve... Sì, qua dentro ci metti... Adesso non si chiude più. Siamo al posto. Si vede che è vecchia. È tutta impolverata. Ma cosa c'è qua all'interno? C'è qualcosa qua all'interno. Hai visto? Ah, non c'è ancora guardato. Surprise. C'è qualcosa di bruciato qua all'interno. Una cosa stupenda. Non è che sia uno stoppino, no? Una cosa rotolata. Non lo so. Però mi incuriosisce. Io la voglio prendere. Ma dov'è che l'hanno trovata questa? In fondo a un pozzo. Beh, ma il pozzo non è... Ah, senza acqua. Un pozzo senza acqua. Cà. In fondo a questo pozzo l'ho trovata questa lampada. Ma dentro qua c'è qualcosa. Beh, dai. Adesso quando arrivo a casa ci voglio proprio vedere cos'è. Sono proprio curiosa. No, bello. Quanto mi fa di questa? Mi fa un buon prezzo. No, dai. Sono curiosa. Sono molto curiosa io. Mi fa un buon prezzo di questa? Ok. Ah sì, dopo volevo prendere anche la borsa. Prendo la borsa e la lampada. E tu cosa volevi prendere? Ah, questo qua è il portacandele. Allora sì, lei prende questo e io prendo la borsa e questa, questa lampada stupenda. la borsa. No, voglio. Ok. Ma sì, che rumore fa. Ma c'è qualcosa qua dentro? Va. Va bene, dai, ascolta. Ok. Va bene? Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ok. Va bene, va bene. Oddio, mi è caduto la borsa. Allora, va bene, grazie. Grazie mille. Le farò sapere cosa troverò qua dentro, dai. Speriamo di trovare qualcosa di buono, almeno. Ti amo, tesoro? Dai. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ciao. 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 Grazie a tutti